Due nuovi casi di Covid-19, un ricovero, ancora caos per la campagna vaccinale e questo è il bilancio del coronavirus per la giornata di oggi, 8 maggio, in centro Abruzzo. L'open day di AstraZeneca Johnson & Johnson non è partito con il piede giusto visto i disagi segnalati e riscontrati soprattutto nel centro vaccinale di Prato-La Peligna. Non disguidi di carattere sanitario ma intoppi dell'ultimo minuto che pure hanno creato caos e ritardi a sistema. Da quanto si apprende sembrerebbe che gli operatori in servizio nella postazione dello stadio Ezio Ricci non avevano l'elenco della seduta vaccinale. Questo ha creato evidenti ripercussioni sulle operazioni di inoculazione senza cioè una distinzione di orari e senza nominativi. Si è andare avanti con continue verifiche, attese e disagi fino alla tarda mattinata quando la situazione è rientrata. Alla base del fuori programma ci sarebbe uno scambio di elenchi ma non è tutto. Sempre nella giornata di oggi si sono registrati una serie di disguidi per quanto riguarda l'assegnazione della sede vaccinale. Nell'ambulatorio di Prato-La si è presentato nel pomeriggio un uomo di San Vittorino, frazione dell'Aquila, stesso di servizio per tre cittadini di Ortona che sono arrivati questa mattina nel centro Peligno per l'inoculazione della dose. Un disguido sulla sede che conferma la difficoltà del sistema a reggere il ritmo. Fortuna che sul posto ci sono operatori e volontari stancabili che hanno operato per ridurre al minimo tutti i disagi. Nel frattempo continuano le proteste redimenticati da sistema perché incompatibili con AstraZeneca. Sono ancora in attesa di una convocazione per l'altro vaccino. Sono 235 le dosi programmate per Sulmona, 180 a Pratola. Su fronte del contagio la situazione resta relativamente tranquilla. Sono due nuovi casi tracciati dalla ASL, una 76enne di prezza e una 55enne domiciliata a Sulmona. Si tratta di madre e figlia entrate in contatto con l'ottantenne che l'altro giorno si presentò in ospedale per un attack per scoprire il contagio, quasi per caso. L'anziana, che ieri sarà portata in pretriage dopo la comparsa di sindomi, è stata ricoverata nella clinica Saraffaele. Sono 133 gli attuali positivi in centro Abruzzo, mentre la medicina covid di Sulmona ha zerato per il momento ricoveri. Segno che la pressione sugli ospedali si sta abbassando. C'è da sperare che nel weekend la voglia di normalità sia accompagnata sempre al rispetto delle regole.